Benissimo, buonasera. Anche stasera al corso di multimedialità nella didattica siamo al modulo numero 8. Questa sera trattiamo una cosa un po' particolare, nel senso che tratteremo degli esempi di regia di montaggio. Perché questo? Troppo spesso si pensa che all'interno di un progetto multimediale il mettere il primo link che capita a livello video vada bene comunque, vada bene lo stesso. E invece no, per due motivi. Prima di tutto perché con un brutto video si distoglie l'attenzione e la partecipazione delle persone. E poi con un video magari fatto da qualcun altro non si riesce a centrare l'obiettivo come si vorrebbe. In che senso? Penso che uno si fa il suo bel progettino con tutti i tempi, con tutto il senso e tutta la didattica che ci vuol mettere. Poi alla fine ci mette un paio di video fatti di un'altra persona che utilizza una didattica diversa o comunque un qualche cosa che non è consono a tutta la storia, quindi da tutto il progetto e questo differisce notevolmente. Certo prendere video da altri è molto più semplice, è molto più veloce, però se uno i video impara a farseli e soprattutto se uno i video li fa insieme ai ragazzi della classe riesce a costruire veramente qualche cosa di unico. Diciamo che riesce a costruire a questo punto un progetto totalmente ad hoc. Fare dei video è abbastanza semplice. Innanzitutto per il web basta addirittura un telefonino. I telefonini di ultima generazione o gli pod addirittura fanno video in HD, per cui con una qualità veramente eccelsa. Questo cosa significa? Significa che se tutti i ragazzi hanno un telefonino come ormai hanno, è molto semplice fare magari tanti filmati sulla stessa cosa o usare più camere e montandoli in seguito si ottengano dei risultati direi non professionali ma perlomeno quasi professionali. E poi tutto il discorso didattico, cioè in un progetto ai ragazzi non si fa solo scrivere le cose, prendere delle foto da internet, ma gli si fa fare le fotografie, gli si fa fare i filmati. E con gli esempi che abbiamo visto soprattutto nei corsi delle LIM dove si parlava di gruppalità, si parlava di tecniche specifiche per lavorare in gruppo, niente di meglio è quello di fare un filmato. Ripeto, non è che parte il fatto che oggi tutti in casa, quasi tutti hanno una camera, però non è neanche necessaria la telecamera, basta davvero il telefonino. Io sono un fautore del telefonino, nel senso che fa veramente tante cose belle e interessanti da poter poi portare in giro, mettere nella rete e tutte queste cose. Vi sono delle regole per fare però un filmato e oggi parleremo proprio di queste regole. Innanzitutto qui nel modulo vi ho messo una distinzione, perché questo è molto importante e a livello tecnico è molto importante, cioè che quella del one take, come si chiama in giro cinematografico, è in piena di sequenza. Allora vi dicevo, la differenza fra pianza e one take, questo lo sbagliano tutti. Ed è importante invece capire quando si fa un filmato che differenza c'è. Allora il piano sequenza è quel tipo di presa dove tutte le sequenze vengano girate in sequenza reale, cioè prima giro la numero uno, poi la numero due, poi la numero tre e vado avanti così, però ho dei stacchi fra una sequenza e un'altra. Vi dicevo che cos'è un piano sequenza, voi immaginate di fare un tutorial sui triangoli. Allora la prima sequenza sarà quella dell'insegnante che chiede ai ragazzi, ma secondo voi che cos'è un triangolo? a quel punto si fa una serie di interviste ai ragazzi con una camera fissa, cioè il telefonino sempre nella posizione o la camera su un treppiede, dove si mettono davanti e si filma il primo che dice, ma un triangolo è, il secondo per me è, il terzo per me è, il quarto per me è e così via. Cosa succede? C'è che alla fine del filmato voi vi ritrovate il prodotto già fatto. Si può ottenere delle cose gregge senza poi doverci passare le nottate e anzi le nottate le venite a passare in estelle così siete più contenti, senza dover fare molto dopo. Invece, questo è il piano sequenza, invece il one take, cioè la presa d'acqua, è quando uno fa una scena oppure tutto un filmato senza mai staccare la camera e questo è una cosa interessante. poi il telefono o la videocamera si sposta e va sul secondo, poi va sul terzo, poi va sul quarto, poi va sul quinto, girando per tutta la classe e questo si chiama il one take, cioè la presa unica. queste sono le due tecniche che veramente io utilizzerei per fare delle cose in classe, non perché il montaggio non è una cosa intelligente o bella, perché il montaggio ti permette di tagliare le scene brutte, ti permette di fare queste cose, ma perché semplifica enormemente il lavoro, concentrandosi di più su quello che è la ripresa, ad esempio voi potreste fare dei gruppi dove c'è il gruppo di intervistati, il gruppo che scrive le domande, il gruppo che fa le riprese a scuola. ecco che questi tre gruppi poi dovendo interagire tra loro creano il filmato, creano il tutorial per il progetto che state facendo. Io adesso ho preso naturalmente una stupidaggine, i triangoli, però pensate magari a delle cose non so, il tutorial o fare un video documentario, un documentario multimediale, cioè un progetto multimediale dove io all'interno ho tutti i riferimenti, quindi con Picasso ho le fotografie, su YouTube metto i filmati, poi faccio un documento dove ci sono tutti gli embedded che inserendoli in qualsiasi computer mi richiama tutti gli embedded e io ho un protocollo, ho veramente un qualche cosa di scritto con tutti i riferimenti multimediali. Non aver paura di usare, di utilizzare il telefonino. Beh, pensiamo alla Frank Capra, ecco è stato uno dei King Idor, cioè sono stati veramente i grandi, i grandi registi di Hollywood, perché avevano capito che il saggio portato attraverso il video è molto più eloquente e molto toccante di le parole.